La torre matta è posizionata nel complesso murario dei bastioni adiacenti al porto. L'edificio caratterizza l'antica cortina difensiva e con la sua fisionomia sporge con evidenza sulle banchine dell'area portuale. Sono ancora visibili i beccatelli decorativi originali, retaggio delle antiche decorazioni militaresche. Inizialmente, verso la fine del Quattrocento, la torre aveva un'architettura cilindrica, successivamente venne rivestita da una forma quadrangolare, allo scopo di migliorarne l'efficienza balistica. Al suo interno vi è un ambiente alto circa 14 metri che da poco è stato oggetto di importanti restauri conservativi. I rifacimenti di epoca cinquecentesca sono ancora oggi visibili ed accentuati dal design luminoso che arricchisce di pregio l'intera struttura. Gli spazi sono ricchi di fascino, ideali per ospitare mostre, convegni e incontri. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!